L'attesa è finita, l'ipermercato Spazio Conade del centro commerciale L'Aquilone ha riaperto i battenti con tante novità, completamente rinnovato, una diversa organizzazione, sempre più attenzione al territorio e ai produttori locali, un grande investimento per un'offerta variegata e di qualità. I murales americani danno una bella impronta di stile, l'un lato sembra quasi di essere in un mercato bello e attrezzato, al centro il cliente e la comunità, rinnovata la pescheria come il reparto carni, offerta ricca di pronti a cuocere e take away, nuovo corner sushi, rosticceria, gastronomia, davvero tanto altro e poi piante, fiori, giocattoli, lego, uno store manga con oltre 700 titoli, oltre a una cantina davvero eccezionale con un vasto assortimento di vini abruzzesi nazionali, abbigliamento, scarpe, insomma c'è davvero di tutto, grande novità anche la mieloteca che promuove il miele e le aziende locali, in un momento di crisi Conad punta ancora sulla qualità, sul cliente e sui dipendenti che sono il punto di forza dell'azienda e con Conad cresce anche il centro commerciale L'Aquilone che è stato anche durante il terremoto un autentico punto di riferimento per la città. Conad è leader in Abruzzo e soprattutto qua nella città dell'Aquila ha voluto fare un investimento importante, sia perché siamo presenti qua dal 2006, come dire, dopo aver vissuto il terremoto e tutta la ripresa siamo sempre stati un punto di riferimento per la città, sia perché effettivamente la città lo merita e riconosce la qualità di Conad. È una presenza, come dire, molto forte sul territorio, cerchiamo come insegna di valorizzare i produttori locali, all'interno di questo punto vendita ci sono oltre 2000 prodotti tipicamente aquilani, una realtà abruzzese a tutto tondo, quindi un'integrazione tra tutte quelle che sono le specialità nazionali e le specialità territoriali. In un momento in cui si parla tanto di crisi, Conad significa anche tanti posti di lavoro che poi si riverberano proprio sulla città, sull'economia della città. Sì, sicuramente facciamo il nostro ruolo, qua ci stanno a lavorare circa 110 persone più una quarantina di indotto, quindi sono 150 famiglie che vengono in qualche modo alimentate dai nostri clienti, ecco perché l'impegno è massimo perché questi clienti siano contenti del prodotto che offriamo.